coach che settimana è stata questa di avvicinamento al big match lo possiamo chiamare così una settimana di cui abbiamo gestito qualche piccolo acciacco come è normale che sia però una settimana di buona qualità per andare a giocare una partita molto complicata passo indietro le valutazioni a freddo della vittoria nel derby con il costone abbiamo vinto una partita sfruttando il momento non bello degli avversari che era nel nostro obiettivo per consolidare un ulteriore vittoria e la nostra posizione classifica quindi alla fine quello che volevamo lo abbiamo raggiunto una partita non bella nervosa nella tensione del derby ma di sicuro di grande valore per noi come si prepara una partita contro quadrata ma intanto cercando di trovare punti deboli degli avversari ed è veramente difficile perché loro sono una squadra profonda quadrata organizzata ormai da anni per giocare in prima fascia in c silver e poi cercando di trovare quelle armi che per noi possono essere di vantaggio e allenarle e cercare di dare dettagli ai ragazzi su che cosa potrebbe essere decisivo sia difensivamente che offensivamente quattro partite quattro vittorie un bel biglietto da visita per la partita di domenica sì noi dobbiamo andare con grande ambizione con grande rispetto degli avversari e del loro rango e della loro attuale classifica ma al tempo stesso noi dobbiamo coltivare fortemente l'ambizione di andare a competere non credo che sia una partita ingiocabile credo che sia una partita da affrontare ripeto con grande rispetto con grande attenzione perché la qualità degli altri la si può pagare in ogni azione però penso anche che si debba fortemente andare lì per competere fare provare a vincere deve essere un nostro obiettivo sempre e perché ovviamente poi ci aspetta un girone di ritorno complicato in cui giocheremo più in trasferta che in casa con dei turni infrasettimanali per cui dobbiamo cercare di portare via tutto quello che si può portare via specialmente in questo momento positivo